Buongiorno a tutti. Scusate, devo leggere se non mi sbaglio. Sabato 19 settembre, alle ore 17, a Bologna, in via Orefici, per la posa della stella Agatto Barbieri, io riceverò il premio Strade del Gets 2020. Io di questo premio ne vado onoratissimo. È ideato da Paolo Alberti, è il suo gruppo, fratello di Alberto Alberti, uno dei più grandi, forse il più grande manager jazzistico mai esistito in Italia. Ha portato in Italia, soprattutto a Bologna, alcuni fra i più grandi musicisti al mondo, da Miles Davis a Charlie Migos e tanti altri. Io ho avuto l'onore di suonare con grandi musicisti bolognesi, da Jimmy Villotti a Vittorio Volpe, in Jam Station, e Alberto mi faceva degli urli, dai 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 che ce la fai, insomma, lui voleva che io facessi la carriera jazzistica. Solo che ho intrapreso la mia attuale, che comunque è una carriera della quale ne vado fiero. Però mi rimane nel cuore la musica jazz. Da grande vorrò studiare, rimettermi a studiare il pianoforte per vedere di fare quello che da piccolo avrei voluto fare, oltre a quello che ho fatto. Questo premio lo voglio dedicare a tutti voi, alla mia amatissima Bologna. Grazie Paolo, grazie davvero di cuore. E sempre, Forza Bologna! Ciao a tutti!